Sì, la direzione è molto buona, eh. Eh, è per quello, infatti. Ci fai caso, no? Eh. Eh, qui mi spiace, ma devi ammettere pure tu. Dici, è un segno del destino, questo. Si va. Dov'ietta, easy. Dov'ietta, n'altra. Un mette, good. Non è su, no? No. Sì. Perfetto. Il rituale è stato eseguito con successo. E via! Si continua. Cosa? C'è qualche stronzo all'orizzonte qua? Veniamo un po'. Eh, qua due dieci hanno lootato, però... non vedo nessuno. Eccolo! Due settanta. Uno sembrò a casa. Terra. Destra. Quasi morto, tipo. È andato dietro. Ovesse, sembri. Andiamo, andiamo, stavo da solo. Andiamo. Mi chiuso adesso a fare la finaccia. Cioè, potrebbe piegare la destra. Occhio ai dracchi. Facca un brando casa, guarda, sta davanti a te. Madonna. A giro. Non c'è altri scudini qui, se vuoi. Meno i mucchi. C'ho tre e mele, chissà. Sì, ma infatti, mo' andiamo. Andiamo a pulire la zona. Questa è un gecchino da qualche parte. Tipo... Eh, nord-est, tipo. Sì. Pazzo al lago, forse. Eh, qua sotto sud. Sud. C'è il 95. Ok. Di tre e nove, siamo saliti. C'è sto, eh, sto arrivando. Merch shot. Terra. Amico. Madonna, madonna. Segatissimo. Un bombolotto, sparimocelo. Cioè, due. Sparimocelo, sì. No, ce ne sta due. Ah, lol. Lui questo ce l'aveva. Però per 50 è scudo. Vabbè. Sì, si sperperà. C'ho tre medikit, c'ho. Voilà. C'è un due scudo e si vola. Tac. Mi ce l'ho... Brrrr. E allora facciamo un'acqua a sinistra. Eh, lo so, lo odio. Sì, ho dovuto stringere proprio lì, Dio, tra l'altro. Però oggi è un gecchino, cazzo. Eh, io c'ho un semi-automatico. No, vabbè. Meglio di niente. Un po' qui. Ecco, li ho visti, 55. Sì, sì, vedo, vedo. Nascondete. Mi sa che sono quelli che sono uccisi da qua. Si costruisci lì. Sta fuori. Anche se dietro... Eh, sì, ma abbastanza... Eh, siamo molto scoperti. Però si chiude l'area. Se fatti la casetta, si fatti sti idioti. E quelli... Se gliela fa il cecchino... Eh, no, no, sono andati via, guarda. Sono andati via. Non è lo stesso, eh. Ah, no? Non lo so. Sì. Porca droia. Eh, aspetta. Ben due, sì, due cecchini. Scendiamo? Sì. Non via danno, eh. Andiamo, andiamo. Io spero, ovviamente, che dentro ste casette di legno non ne sia nessuno. 130 sempre, dentro quella colgaracea. Sì, rivisti. Non è dentro. Ticchiamoci un secondo qui dietro. Eh, però non... Ma l'immazzo, ho capito? Eh, no, no. Spero, non rischia... Parcuti, aspetta, sta fermo adesso. Sta fermo adesso. Guarda, si ferma spesso. Mm. Sì, infatti. Se stanno a meno qualcuno davanti. Ma avvicino che ero pieno. Cerca a fare the shot. Non t'ha visto, quindi è buono dietro. Mm. E mo' si costruisce tutto, però. T'ha visto? No, no, sono altri, 120. Ok. Di fianco a te stanno. Eh, sì. Che puttana. Ma hanno sparato a te? Sì, sì, stanno alla, guarda, 105. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ah, è stato sopra quelli. Buonissimo, buonissimo. Ma chi sparo? Nessuno. No, fermo. Eeeh, è apposta. Se no, zio, corre indietro da me. Bravo. Eh, ma che cazzo stanno facendo? Sì, sì, fai, fai. Sì, se no andiamo su da loro. Ok. Mentre stanno impegnati. Passiamo qua, guarda, vieni, vieni. Sì. Allora, sto albero, gioco, ora non mi fa costruire. Qui va bene, vai, vai. Terra 1. Dove sta volando questo? Me ne su. Stanno a rasciare qua sotto? Eh, sì. C'è un razzo che arriva? Da mezzo all'ago, mezzo all'ago. Ok. Sì, non sparo un medikit, un secondo. Stanno qua sotto, zi. Un attimo, non ingaggia. Ok. Quando ingaggio me freezza, addio bono. Stanno a camberare qua sotto, dai. Sparisci. Orca puttana, stanno là in mezzo. C'era qualcosa di decente, questo comunque c'aveva, eh. Dove stanno, zi? Sul lago? Sì. È rimasto uno, zi. Sta lì. Ok. Se si affaccia, lo secco. Come 140 le gocciole, saldo? Lo famo? Aspetta, aspetta. Che me lo impastisco. Se lo magna l'aria, zi. Come allora, già. Sta volendo l'acqua, easy. Dove, dove? Eccola, eccola. Un colpo morto. Spam! A posto. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente, se la cosa vi piace, ne porterò sicuramente altri. Perché io a Fortnite ci gioco abbastanza regolarmente. E anche abbastanza spesso. Quindi fatemi sapere se volete magari delle cose particolari. Le indicazioni, miniguide, roba del genere. Perché per me non c'è problema e le porto molto volentieri. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie. 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 Grazie.